Un fine settimana nel quale cinque associazioni del territorio si sono messe insieme per organizzare la festa di fine estate che dovrebbe portare nella sede degli alpini di San Michele tantissima gente come ormai con sui tutti. Sì esatto, diciamo insomma è già il secondo anno, l'anno scorso è stato un grande successo, è avuta tantissima gente, ci auguriamo anche quest'anno, ovviamente è un modo per un po' celebrare la fine dell'estate e fare aggregazione. Abbiamo cinque associazioni, sono Proloco, Bigfoot, CTG, Rox e Pandora che è quella di cui faccio parte, io parlo insomma nome per conto loro. La cosa sicuramente bella e un po' particolare è proprio questa, che sono associazioni insomma autonome che esorbono attività durante l'anno e in questo contesto diciamo si ritrovano insieme e è proprio bello che ogni persona, ogni associazione diciamo contribuisce con il suo, quindi con le sue persone, le sue risorse, la propria esperienza diciamo e il performamento diciamo unico e questo diciamo arricchisce secondo noi anche proprio le associazioni stesse e le persone stesse perché ognuna diciamo dà spunto all'altra. Chiudiamo dando l'appuntamento con le date e gli orari e se è possibile anticipare anche qualche nome? Sì, allora sarà aperto diciamo dalle sette di venerdì fino alle due, due e mezza di sera e sabato invece è anche quello prima dalle 18. Qui i nomi avremo Discomfort, avremo i bulgari, avremo i carabighetti, Bocce DJ, insomma tutti gli artisti della zona, comunque sono conosciuti per un panorama, comunque uno spettacolo artistico diciamo.